Ma che vai dicendo? Io non ti capisco. Sei un gran figlio di puttana! Comunque portare in tribunale davanti ai giudici, ma io ci vado da solo, perché di te non mi fido. E dirò ai giudici guardate le stronzate che fa il commissario Ferro. E ti faccia fare una figura di merda, commissario. Le prove. Dove sono le prove?